Musica E' stato il pianista di fama internazionale Leslie Howard ad aprire il festival pianistico Città di Arezzo in memoria di Arturo Benedetti e Michelangeli al Teatro Petrarca. L'inizio è il migliore e più stupefacente che potevamo immaginare con il maestro Leslie Howard e che ha accettato con entusiasmo, con gentilezza e semplicità grandissima di venire a suonare nel nostro teatro. Quindi maggiore e doppiamente felice e orgoglioso di questa occasione. Nel concerto a Retino Leslie Howard ha eseguito anche due brani dedicati a San Francesco d'Assisi. Sono pezzi particolari di Liszt perché il suo santo di nascita, se mettiamo, fu Francesco di Paola ma dopo Liszt è diventato un francescano quando è entrato nella chiesa e quindi i due franceschi sono per lui modelli della vita. Il festival proseguirà con altri tre concerti tenuti da maestri di fama internazionale sino al mese di febbraio. Sono quattro appuntamenti di cui il maestro Howard tiene il primo l'inaugurazione ma non dimentichiamo il maestro Roberto Plano il 14 dicembre poi a gennaio, il 28 gennaio il maestro Gianluca Luisi e Maurizio Baglini il 8 febbraio.